L'ospice di Arezzo cerca casa possibilmente definitiva. È il presidente del Calcet, Giancarlo Sassoli, a prendere una posizione pubblica sul destino dello stabile che dovrebbe ospitare le cure palliative ad Arezzo e che durante la pandemia era stato di nuovo ospitato nel centro oncologico, lì proprio dove era nato, Palazzina Calcet, che oggi è tornata alle sue funzioni. La ASL dovrà nei prossimi giorni pubblicare la manifestazione di interesse per affittare uno spazio, ma il comitato non è d'accordo su questa soluzione e rilancia puntando ad una struttura completamente nuova. La battaglia per l'ospice, l'ospice diciamo non è che sia una battaglia, secondo me bisogna prendere una strada chiara e percorrerla. Obiettivamente la ricerca dell'immobile, come ho visto adesso, secondo me non è la strada giusta. Oltretutto c'è anche da sistemare, oltre all'ospice, anche il Modica, che ha un costo di affitto anno notevole e non è neanche giusto che rimanga dietro al centro oncologico, rimangano quei ruderi che sono non solo indecorosi ma sono anche pericolosi. Ha già fissato un incontro magari con il direttore per dirgli a quattro occhi questa sua posizione? No, ma più che a quattro occhi, diciamo le cose sono dette pubblicamente che forse è meglio, perciò se c'è bisogno di... Diciamo, noi da parte nostra collaborazione è sempre massima. Quello che non si vede, come ripeto, che secondo me hanno preso una strada tortuosa. E l'ultima, quella della ricerca dell'immobile, la manifestazione di interessi, secondo me insomma il tempo l'avrei speso meglio. Grazie a tutti.